Novità in vista per Belen Rodriguez, la celebre showgirl argentina, e il suo nuovo amore, Elio Lorenzoni. Abbiamo archiviato definitivamente la storia d'amore con Stefano De Martino, ma questa volta sembra che Belen abbia trovato la sua vera felicità. Ma cosa ha reso questa storia così speciale? Scopriamolo insieme. Benvenuti nel nostro canale Gossip Secrets. Oggi vi portiamo dietro le quinte di una delle storie d'amore più chiacchierate degli ultimi tempi. Ma prima di immergerci nel mondo di Belen e Elio, mettete un like a questo video e iscrivetevi al nostro canale. Dopo una lunga pausa dai riflettori, Belen ha condiviso con i suoi fan momenti indimenticabili trascorsi con Elio Lorenzoni. Questa coppia ha recentemente trascorso del tempo in montagna, godendosi l'amore e la bellezza della natura. Ma cosa ha catturato l'attenzione di tutti? Le fedi, amici, le fedi. Belen ha condiviso una serie di foto su Instagram, in cui le fedi degli innamorati sono chiaramente visibili. Le loro espressioni felici, le pose spontanee e, naturalmente, l'amore che trapela da ogni immagine, hanno reso i fan incredibilmente felici. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate di questa dolcissima coppia. Il gesto delle fedi ha fatto scatenare una vera e propria tempesta di commenti sui social media. I fan si sono affrettati a esprimere la loro gioia per il ritrovato sorriso di Belen. Alcuni hanno persino sottolineato quanto si è affiatata questa nuova coppia, augurando loro tutto il bene del mondo. Ma ci sono anche i dubbi, gli interrogativi e le speranze per il futuro. Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni stanno vivendo un amore intenso e appassionato. E i fan sono più entusiasti che mai. Ma cosa ci riserverà il futuro per questa coppia? Rimanete sintonizzati per scoprirlo.